È estremamente importante l'atteggiamento che ha il conduttore anche della costellazione, cioè la persona che facilita la buona risoluzione della costellazione stessa, quindi del quesito. Innanzitutto un buon conduttore deve essere focalizzato sulla ricerca di una soluzione e non sul problema. Si trova a cercare soprattutto le persone che sono state escluse o dimenticate dal sistema famiglia e a tentare di reintegrarle. In più si accorge o cerca di accorgersi se ci sono degli scambi di ruolo e quindi ripristina quello che è l'ordine corretto all'interno del sistema famiglia. In più identifica chi se ne può andare dalla costellazione, quindi chi non è necessario per la risoluzione di quel quesito specifico e cerca di utilizzare anche proprio all'interno della costellazione stessa il minor numero di persone possibili, in modo che la costellazione sia il più lineare possibile. Capita anche che il costellatore si trovi eticamente costretto a interrompere una costellazione, cosa che non è molto facile da accettare per un conduttore. Ci sono invece delle occasioni in cui è buona norma interrompere la costellazione.